Ancora un attacco dei lupi nell'Aretino dopo i casi di Rigutino alle porte di Arezzo e l'altro caso che si era registrato a inizio anno a Cozzano, zona di Castiglion Fiorentino, ieri pomeriggio un altro caso. A segnalarlo è Dante Moretti, imprenditore agricolo locale e presidente della sezione di col diretti di Arezzo, la zona è quella di Pieve al Toppo, Val di Chiana. È successo in piano giorno, dice, nella zona adiacente alla mia azienda i lupi sono riusciti a scavalcare una recinzione e introducendosi all'interno di un'altra azienda hanno sbranato una pecora e ferito un cavallo. La paura di Moretti è che i predatori possano di nuovo avvicinarsi alle aziende o alle abitazioni. Non è più una situazione sostenibile, dice, il lupo potrebbe arrivare in ogni momento come ha già dimostrato di fare, di giorno e di notte. L'allarme è rosso per i nostri imprenditori, continua col diretti, le aziende sono in grossa difficoltà e stanno facendo sforzi enormi per restare in piedi. Serve un vero e serio impegno delle istituzioni. Quello che chiediamo è la massima responsabilità nella difesa degli allevamenti, dei pastori e degli allevatori che con coraggio continuano a presidiare le montagne.